Medici, operatori e volontari a disposizione dei cittadini con consulenze specialistiche gratuite. L'Associazione Metropolitana di Bari della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, scende ancora una volta in campo in occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 2024, in programma da sabato 16 a venerdì 22 marzo. Tante le iniziative promosse in collaborazione con il Comune del Capologo Pugliese, con l'obiettivo di informare e divulgare la cultura della prevenzione e aumentare la consapevolezza che è e rimane la vera arma vincente per sconfiggere il cancro. Porta come invito a tutta la cittadinanza diventa influencer di te stesso e quindi un invito a prendersi cura di sé, pensare al proprio benessere con sani stili di vita, corretta alimentazione, esercizio fisico, ma anche educazione sanitaria. A questo riguardo apriamo nuovamente le porte della Lilt, offrendovi consulenze specialistiche gratuite da lunedì 18 a venerdì 22, e dalle 8.30 del mattino fino alle 18 la sera si potrà accedere con appuntamento. Ci sarà tutta l'equip dei nostri medici a disposizione per le consulenze. La prevenzione è una cosa molto vasta e che prende tanti settori. La prostata deve essere controllata per esempio annualmente con un predio del sangue, quindi una valutazione del PSA con un'ecografia translettale previa visita urologica. La donna invece deve fare assolutamente prevenzione della sua sfera genitale, quindi pap test, ecografie eccetera, e mammografia con visita ed eco. La cosa che sottolineo è l'importanza di rivolgersi a centri altamente specializzati con personale altamente qualificato. Siamo orgogliosi come assessorato al welfare e come comune di Bari di essere ancora una volta accanto alla Lilt per avviare una serie di eventi per lo screening e la prevenzione. Per noi promuovere la salute e il benessere rappresenta un impegno importante che realizziamo in queste occasioni, ma quotidianamente proprio grazie a un lavoro fra pubblico e privato. Questa sarà un'opportunità per arrivare in tutti i luoghi della città, a partire dalla periferia, agganciare anche tante situazioni che spesso di donne e di uomini che spesso fanno più fatica ad avvicinarsi proprio a screening e ai percorsi della prevenzione. Grazie a tutti.